L'Aquila Rugby Club, orgogliosa della vittoria a Villa Sant'Angelo, ringrazia i tifosi per il sostegno, ma soprattutto gli atleti che sono scesi in campo per vincere mostrando grandi doti umane e sportive, serietà e attaccamento alla propria squadra. Rompe il silenzio in cui si era trincerata nel momento più acuto del turbinio di notizie, che nelle scorse settimane l'hanno posta al centro dell'attenzione, con notizie più o meno autorizzate, spesso non raccolte alla fonte, e proprio per questo motivo cerca di fare un po' di chiarezza e di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, o per così dire, dallo scarpino. Al momento la società aquilana si dichiara concentrata unicamente sull'organizzazione della stagione 2017-2018, sulla composizione della rosa ed il reperimento dei fondi necessari alla disputa del campionato di Serie A. Si ricorda il progetto del compianto presidente Zaffiri e dei soci che nel momento più buio del rugby cittadino, nel 2014, quando l'Aquila Rugby 1936, grazie ad un campionato esaltante, fu promossa in eccellenza, il massimo campionato italiano, si rischiava di fanificare il tutto senza la possibilità di garantire l'iscrizione della squadra alla stagione successiva. Il tutto nel silenzio più totale della città e delle altre società regbistiche aquilane. L'Aquila Rugby Club nacque proprio per salvaguardare la squadra e i colori nero-verdi, garantendo la permanenza del titolo in città. Facendo un accordo con la 1936 per la cessione del titolo e collandosi direttamente e indirettamente debiti maturati, il contributo federale per le squadre di eccellenza di 160.000 euro venne devoluto interamente al ripianamento dei debiti preesistenti, spetanza che competeva probabilmente alla precedente società. Di fatto, l'Aquila Rugby Club, sin dal primo giorno della sua costituzione, partiva con un debito di 260.000 euro. Ciò nonostante, è riuscita a disputare due campionati in eccellenza ed uno in Serie A, arrivando in finale lo scorso maggio e tenendo alto il nome e i colori della città nel panorama regbistico nazionale. La riduzione degli spettatori allo stadio, il mancato apporto di risorse economiche da parte degli imprenditori che le avevano promesse, hanno contribuito a cronicizzare la già complessa situazione economica societaria. Un cambio di rotta improntato alla trasparenza e alla condivisione delle scelte sportive non con nuova linfa di sponsorizzazioni e partnership venute da fuori città che credono e sostengono i progetti di sviluppo sociale e non solo strettamente sportivo della città dell'Aquila. Si ricomincia da capo, insomma, con i migliori presupposti. Grazie.